Il sogno di un astronauta a un concerto per l'ospedale dei bambini al Teatro Grande di Brescia. Ritorno a casa per il compositore Leonardo Di Lorenzo che ha studiato al Conservatorio Bresciano. Un ritorno a casa per Leonardo Di Lorenzo, compositore nato a Roma dal 2005 a Londra. Ho studiato a Brescia con i maestri Lie e Facchinetti, ha ricordato, presentando al Teatro Grande Sogno di un astronauta, opera commissionata per celebrare il lancio della navetta Atlantis. Un pochettino, è una metafora perché alla fine siamo tutti un po' astronauti, vogliamo tutti un po' decollare, andare sulla Luna. Decollo, paesaggi lunari, non siamo soli, omaggio ad un incontro pacifico con gli alieni, applausi per l'orchestra sinfonica dei Colli Moremici. Parte da solista alla tromba per il direttore Giuseppe Orizio, in un brano dedicato ad un malavitoso londinese, dichiarazione d'amore per la musica di Nino Rota, concerto aperto dall'orchestra giovanile bresciana, grande empatia con il pubblico, 800 persone, proventi per l'ospedale dei bambini.